Allora, sì, mi chiedete l'esperienza con il Papa. Beh, devo dire questo. Erano gli anni 86-87, quegli anni lì, quando io ero il comandante della base di Istrana, colonnello comandante della base, mi arriva un telegramma nella quale sua santità sarebbe atterrato nella base di Treviso, precisamente, che era la base vicino a noi, però noi di Istrana dovremmo accompagnarlo per 15 giorni il primo anno, 15 giorni il secondo anno, con l'elicottero, la B212, il quale è bimotore, quindi un veliolo sicuro, eccetera, nei vari spostamenti che doveva fare Santità. Beh, una gran cosa per uno stormo. Subito i miei piloti, dico ragazzi, mettetevi in ordine, precisi, perfetti, mettiamo in posto l'elicottero, puliamolo, tutto l'insieme di cose, gli elicotteri, in modo che saremo sotto l'occhio della televisione. Beh, questo è avvenuto per 15 giorni il primo anno e 15 giorni il secondo anno. Il primo volo me lo ricordo perfettamente, ero io, insieme agli antipiloti e lo specialista, siamo atterrato dove aveva la villetta dove lui passava le vacanze, è arrivato il mattino, io certamente, prima volta, a Santità, sull'attente, lui è salito a bordo, tranquillo, sereno, siamo andati, siamo andati, siamo in Val Vizdende, dove c'erano i boscaioli che avevano organizzato una messa e poi un grande pranzo. Bene, durante il pranzo io mi ero messo con i sindaci e i prefetti su un certo tavolo, la sua Santità era al centro di un tavolo, aveva altre personalità a fianco, a un certo punto è venuto da me Stanislav, il suo segretario, e mi dice, Comandante, guardi che Santità la vuole sul tavolo papale, ma no, io c'è il centro, ci sono i prefetti, no, 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 venga, 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 vabbè, a questo punto vado, e mi trovo il posto libero alla destra di Santità, e gli ho detto, beh, ho già capito, oggi non mangio, perché non mangerò, sono lì che devo fare. Mettico dove sono seduto, dopo dieci minuti mi ha confidato una certa confidenza, subito gli ho versato del vino, lui era umiciatto a mangiare, io era umiciatto a mangiare, insomma dopo mezz'ora eravamo amici. A quel punto poi sono stati 15 giorni che l'ho scarruzzato in giro per tutte le dolomiti, i posti dove doveva andare, con anche, con moltissimi aneddoti, aneddoti che mi hanno divertito, insomma, no? L'aneddoto era quello che lui subito, dopo il secondo volo, mi dice, senta, quando vede una chiesa, un camposanto, qualcosa con le croci, me lo faccia notare che io do una benedizione in volo, ma sedo davanti, lui dietro, che devo fare? Gli toccavo il ginocchio e lui benedieva in automatico. C'è stata una volta che voleva le cuffie, e ho detto, Santità, non è il caso, i piloti quando sono in volo magari dicono delle pagolacce, non è il caso. E allora lui ha detto, eh, ma quando ci vuole magari si può dire, e dico, no, non è il caso, e non gliel'abbiamo messa. Poi ci sono stati altri avvenimenti, l'avvenimento è stato quello che è stato raccontato a Torelli, su tutti i giornali, la notte, eccetera, quando io, diciamo, ho rubato, tra virgolette, le scarpe del Papa. Siamo terrati sull'Adamello, per, dovrei dire, messa, una giornata un po' nuoricchia, un po' di neve, un po' di roba del genere, è stata una giornata, quella che me la ricordo ancora come fosse adesso, siamo terrati, gli hanno subito dato un paio di calzari bianchi, tipo Monbut, perché doveva camminare sulla neve, eravamo 3.000 passometri in estate, per dire questa messa. E lui lascia il suo immocassino, non rosso, immocassino in marrone, immocassino proprio da polacco, sull'aeroplano, lascia lì e se ne va, sull'elicottero, se ne va. Io rimango lì con gli altri piloti, aspettiamo per decollare, dovevamo decollare al pomeriggio, c'era il pranzo, poi. A un certo punto vedo queste scarpe e mi si è accesa una lampadina, ma non è che sono come gli stivali del gatto, delle sette leghe che cammino più forte con queste, e intanto li prendo in mano, guardo il numero 43, che è il mio numero, dico quasi quasi, allora mi guardo sempre, c'erano i piloti di EF, comandante, no, non è mica succedere niente. Praticamente ho messo queste scarpe del Papa, mi sono messo a correre in giro l'aeroplano, ho fatto uno, due, tre, dieci, venti passi, visto che erano scarpe normalissime, dopo poi le ho tolte e le ho messe là, fine della trasmissione. Però logicamente, avendolo saputo, Torelli, eccetera, hanno fatto un racconto di questo che mi ha portato fortuna, portare le scarpe, eccetera. Ma quella giornata è stata una giornata particolare, perché a un certo punto, dopo il pranzo, si è messo a nevischiare. Stanislaw, avuto da me, mi chiede, e mi dice, senti comandante, ma qui c'ho paura i fedeli, se comincia a nevicare. Ho detto, beh, che dobbiamo fare? Dice, beh, magari potremmo prendere Santità, se noi andiamo via, se ne vanno via anche i fedeli. Ho detto, va bene. E dico, avviso a Santità. E lui mi fa, Santità sta dormendo, sta riposando. Il segretario, svegliano. Lui un po', ma sai, vado io, busso, e Santità mi risponde, dico, senta Santità, guardi, sta succedendo questo, forse è meglio che ce ne andiamo qui e là. Va bene, Santità esce, e mi dice, beh, cosa facciamo? Dico, Santità, facciamo un giro sulle Dolomiti, che lei piace vedere le montagne, e poi atterriamo da Montenegro, vicino Belluno, insomma. E dico, atterriamo da quelle parti, io vado a fare il carburante, poi lei dice, dove dire un'altra messa. E lui mi fa, mi esprime un desiderio. Dice, mi piacerebbe pregare su queste montagne da solo. anche io gli dico, Santità, noi abbiamo un elicottero di scorta, perché dovesse succedere che il nostro non va. Poi ci sono i due elicotteri dalla polizia, dico, che ci stanno seguendo. Dice, eh, lo so, sì, però se la Santità autorizza, io farò in modo di andare. E vabbè, abbiamo giocato un po' di movimenti con l'altro elicottero, e quelli della polizia hanno cominciato a non capire, hanno seguito l'altro, e io e Santità ci siamo trovati soli. Praticamente ci siamo trovati. Io, l'altopilota, lo specialista, Santità, Stanislau, il fotografo e il capo della sicurezza. Sul velivolo ho cominciato a sentire per radio che tutti ci cercavano, perché giustamente non c'era più. E siamo andati avanti, fino a quando siamo arrivati all'altopiano di Asiago. Lui ho detto, ah, qui Belverde, a terra qua. Mi stavo avvicinando quando ho visto della gente. Dico, no, allora non va bene. Ho riattaccato. Finalmente mi sono trovato un'area dura, ho poggiato l'elicottero. Prima di far scendere Santità noi spegnevamo il motore, traravamo, prendiamo Santità. In quel momento, ho spento il motore, scendo e vedo due pastorelli. Quelli vengono verso di noi, dicendo, ah, l'elicottero. Dico, ma l'elicottero non è niente. Dico, abbiamo il Papa a bordo. E questi ci guardavano. Apro la porta, Santità. E questi subito stesi in ginocchio. A parte questo, dico, beh, allontanatevi. Santità è andato a pregare a circa 150 metri da noi. Si è messo su un masso e ha cominciato le sue preghiere. Noi siamo stati lì in silenzio, religioso, diciamo noi. In silenzio religioso, insieme a Stanislaw e tutti, aspettare che ritornassero. è rimasto, eh, un 30 minuti, mezz'ora, insomma, no? Dopodiché è venuto e dice, beh, ritorniamo. Ok, dico, l'ho messo in moto il velino e lo siamo ridacollati. Certo, quando ci siamo avvicinati, era vicino Belluno a quelle parti, subito è arrivato il vescovo di Belluno, mi ricordo, altra gente, prendendola col comandante. Lei ha fatto? No, no, dico, scusi, eh. Prendetela col padrone. È lui il capo, quindi. E fatti tutti zitti, è finita la storia, abbiamo riportato il Papa a casa. Come un altro aneddoto, bello col Papa, è stato questo. Io ho sempre chiamato l'elicottero, l'avione, e dicevo, l'avione è bene, andiamo a un certo punto. Lui non aveva mai chiesto nulla. Un giorno mi chiede, ma questo avione come chiama lei? È sicuro? E io, santità, sicuro è sicuro, ma se dovesse proprio succedere, io mi attacco le sue veste e andiamo direttamente dal padrone. E questo mi si è messo a ridere ed è finita lì la vittura. Infatti c'ho le foto, c'è le strane, ma ce le ho anche io a casa, io con la pappalina bianca e lui con il mio berrettino da volo, insomma, quindi. Comunque ho portato anche Grazzi in gara. Sì, l'ho portato in volo due volte, quando ero già comandante alla squadra, ma devo dire un'altra persona squisita, perché. Grazie. 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 Grazie.